E' stato pubblicato un nuovo rapporto di Amnesty International sulla guerra in Ucraina ed è stato pubblicizzato con questo tweet qui Le forze ucraine hanno messo i civili in pericolo stabilendo basi e attivando sistemi d'arma in aree civili densamente popolate Insomma, con queste premesse, che cosa potrà mai andare storto? Il 4 agosto 2022 Amnesty International ha pubblicato una relazione in base alla quale le forze armate ucraine applicano tattiche che metterebbero in pericolo la vita dei civili Subito dopo Amnesty ribadisce il concetto In primo luogo gli ucraini stabilirebbero basi in zone densamente popolate sfruttando anche scuole e ospedali Lancierebbero attacchi da aree densamente popolate E infine è bene ricordare che queste violazioni ucraine del diritto internazionale non giustificano minimamente il comportamento dei russi che hanno eliminato innumerevoli civili Insomma, leggendo questo studio, la prima impressione è che secondo Amnesty International non ci sia poi questa grandissima differenza fra le forze armate russe e le forze armate ucraine I russi non si fanno alcuno scrupolo a eliminare i civili e gli ucraini non si fanno alcuno scrupolo a metterli in pericolo È superfluo dire che questa visione cerchiobottista ha fatto la felicità dell'ambasciata russa da una parte e ha fatto sollevare molte perplessità nel mondo occidentale Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву немає і не може бути навіть гіпотетично жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною І якщо хтось робить звіт, в якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові Якщо аналізуються якісь дані про жертва, а що робив агресор в цей час ігноруються то з цим не можна мирити In primo luogo, il presidente Zelensky parla letteralmente di victim blaming Sostanzialmente, Amnesty International ignora completamente il comportamento dell'agressore che in questo caso è la Russia, e si concentra sul fare le pulci allo stato aggredito, l'Ucraina In questo modo, l'unica cosa che riesce a ottenere Amnesty International è l'amnistia per lo stato estremista che ha portato avanti l'attacco In secondo luogo, protesta vibratamente anche la presidente di Amnesty International ucraina la quale spiega senza mezzi termini che la sezione locale ucraina di Amnesty International è stata completamente bypassata dalla sezione centrale E questo naturalmente è un errore madornale perché la sezione locale si trova sul posto e ha accesso a un maggior numero di informazioni rispetto alla sezione centrale Similmente, anche Maxim Tucker, attivista per i diritti civili, di fame internazionale, avvocato è rimasto estremamente perplesso leggendo questo rapporto Secondo Maxim, infatti, questo rapporto è tutt'altro che dettagliato e circostanziato e se vogliamo essere proprio precisi, Maxim lo definisce come fuorviante e bizzarro E se devo essere sincero, anch'io, per diversi motivi, ho avuto la stessa impressione Infatti, in primo luogo, questo rapporto è tremendamente generico Non ci dice quale metodologia ha seguito Amnesty per arrivare a questi risultati Non ci dice di quali elementi concreti Amnesty dispone Mancano insomma tutti gli elementi che rendono questo studio verificabile da chiunque In secondo luogo, sono completamente assenti tutti i riferimenti alle norme che secondo Amnesty sono state violate Si parla genericamente di diritto di guerra ma non si dice nulla di più Questo lavoro inoltre è tremendamente parziale perché sostanzialmente quando hai terminato lo studio non hai aspettato che il governo ucraino, direttamente coinvolto, ti desse una risposta Hai mandato tutto il 29 luglio e il 4 agosto hai pubblicato di tutte e di più dicendo Ehi, non si sono interessati al caso? Hai lasciato loro meno di una settimana per fare le loro osservazioni Certo, se il tuo studio si limita a quattro righe e hai mandato a loro solo quello posso capire che una settimana sia largamente sufficiente D'altronde bastano due righe per dire Guarda, sono tutte bippate, la cosa finisce lì Se invece ci fosse effettivamente del materiale raccolto da analizzare una settimana potrebbe essere davvero un termine estremamente ridotto E infine, sempre a livello metodologico e formale ho l'impressione che Amnesty International utilizzi un doppio standard e cioè, molto banalmente, scrive i suoi rapporti utilizzando due pesi e due misure Il che, detto fra parentesi, potrebbe anche essere fisiologico visto che Amnesty International è sì la stessa organizzazione ma i rapporti vengono scritti da persone fisicamente diverse Per esempio, non ho mai visto un rapporto di Amnesty International contro Hamas lamentandosi del fatto che questa organizzazione lanci i propri attacchi contro Israele proprio da basi che si trovano in aree densamente popolate E a questo punto, qualche iscritto, soprattutto se è un grandissimo figlio di Putin potrebbe dire cose del tipo Ma, avvocato, possibile che tu faccia sempre l'avvocato? Che cos'hai da contestare effettivamente ad Amnesty International? Il tuo è soltanto benaltrismo e citazione di norme e normette anzi, le norme e normette per ora ce le hai anche risparmiate Sei solo un benaltrista In realtà no, cioè sì, sono avvocato e quando analizzo un documento lo faccio con metodo Tuttavia, in questo caso, ho moltissime cose da dire anche da comune cittadino oppure ancora da analista dilettante Per esempio, Amnesty International si duole del fatto che l'esercito ucraino spesso e volentieri prenda posizione all'interno della città e non si accampi in un bosco all'esterno di questa O magari in un campo, così perlomeno nessun albero innocente corre il rischio di beccarsi una bomba termobarica sui rami Ora, io non sono un grandissimo esperto militare Tuttavia, mi pare di aver capito che i russi cerchino di conquistare le città non i boschi intorno alle città E quindi, sempre in base alle nozioni dilettantistiche militari di cui sono dotato normalmente devi fortificare la città non il bosco di fianco E sempre dando fondo alle mie limitate nozioni di storia sono almeno due o tre secoli che gli eserciti non si scontrano più in campo aperto ma prediligono gli scontri urbani E infine, sarà un pregiudizio mio, ma ho come l'impressione che Vladimir Putin e i suoi ragazzi non è che rispettino le regole e l'onore proprio alla lettera Ecco, secondo me, se li sfidi a duello e gli dai appuntamento a un'ora prestabilita in un luogo prestabilito non si presentano Mentre tu sei lì, cavalerescamente ad aspettarli loro si infilano nella città e iniziano a razziare lavatrici e toilette O magari si presentano perché il rapporto numerico è palesemente a loro favore Quanti sono i militari russi in rapporto a quelli ucraini? 3 a 1? 5 a 1? Siamo a queste condizioni qui Per ogni militare ucraino ne hai almeno 3 russi sul campo E voglio vedere come va a finire uno scontro in campo aperto Poi, le convenzioni internazionali non basta leggerle, bisogna anche capirle Intendo dire, anche un Novax per errore può imbattersi nella quarta convenzione di Ginevra a protocollo primo articolo 4 Ma poi devi comprenderne la razio Insomma, in base a questo articolo sono protette dalla convenzione le persone che in un momento, in un modo qualsiasi, si trovino in caso di conflitto o di occupazione in potere di una parte belligerante o di una potenza occupante di cui esse non siano attinenti In parole povere, sono i russi gli occupanti che devono rispettare queste regole non gli ucraini che si trovano in posizione difensiva Gli occupanti hanno modo di organizzarsi, i difensori purtroppo no Se devi difendere una città, è ovvio che fortificherai quella città e prenderai posizione all'interno di essa Non è ragionevole pensare che i militari debbano uscire come si vede fare nei videogiochi o nei film E in secondo luogo, l'occupazione di infrastrutture civili e fisiologica Pensateci bene In periodi di pace hai un numero nettamente inferiore di militari Quando fai la guerra, richiami i riservisti e devi portare le tue truppe dove sono necessarie E una delle soluzioni più pratiche consiste proprio nel convertire le scuole o altri edifici pubblici in piccole basi militari E quando questo avviene, si cerca sempre di far evacuare la città Naturalmente ci sono alcuni cittadini che si spostano e altri invece che per un motivo o per l'altro intendono rimanere E sì, siamo d'accordo, restare è decisamente imprudente ma non è che i militari possono dare una botta in testa al poveraccio che vuole restare vicino alla sua casa e alle sue quattro cose e portarlo via a forza E vogliamo poi parlare degli ospedali? Quelli di Amnesty International si lamentano del fatto che all'interno degli ospedali ucraini si trovano anche dei militari Ora, in base all'articolo 19 della Convenzione di Ginevra la presenza di militari all'interno di un ospedale non è condizione né necessaria né sufficiente per trasformare l'ospedale civile in un bersaglio Vi potrà sembrare strano, ma i militari ucraini hanno tutto il diritto di fare visita ai propri commilitoni feriti e hanno tutto il diritto di usare i distributori automatici di brioche dell'ospedale Gli ospedali perdono la loro immunità e possono costituire dei bersagli validi solo a una condizione nel caso in cui detengano delle indesit e non le consegnino immediatamente agli invasori russi e cioè qualora vengano compiuti atti dannosi per il nemico Esemplifico, se qualcuno piazza una postazione antiaerea sul tetto dell'ospedale l'ospedale diventa un bersaglio valido La semplice presenza di militari non lo è e questo lo dice la Convenzione di Ginevra non l'avvocato Francesco Catania Inoltre, il rapporto di Amnesty International dà una lettura falsata circa la dinamica di guerra Amnesty International sostiene, più o meno indirettamente ma in realtà in maniera abbastanza diretta che la semplice presenza dei militari all'interno delle città esponga i civili a perdite maggiori per via del fuoco diretto o indiretto dei russi Questa tesi è palesemente priva di fondamento i russi attaccano metodicamente i bersagli civili A oggi mi risulta che abbiano colpito circa 1900 scuole e non è che tutte queste 1900 scuole fossero utilizzate come basi dall'esercito ucraino All'interno del teatro di Mariupol si erano riparate donne e bambini c'era scritto anche bambini grande e grosso sulla piazza antistante Ma i piloti che hanno eseguito i bombardamenti se ne sono infischiati altamente o magari erano distratti dal grande e luccicante Garmin che finalmente permetteva di capire dove si trovassero e cioè sopra un bersaglio civile Che dire poi del missile parcheggiato nel centro commerciale di Kremenchuk? E delle autombulanze attaccate dai russi? Amnesty International lo sa che ci sono circa 200 autombulanze che sono state fatte oggetto di fuoco da parte dei russi? E degli attacchi contro i civili peraltro perpetrati durante le evacuazioni e quindi durante un ipotetico cessate di fuoco Che cosa dice Amnesty International? Tace? O dobbiamo fare finta di niente perché ne parla in un report precedente e questo è tutto un altro capitolo? Insomma questo report è carta straccia e come lo penso io l'ha pensato anche un mucchio di gente che ha inondato Amnesty International di mail e tweet di protesta Il segretario generale di Amnesty International Agnes Callamard non l'ha presa proprio benissimo e minimizza parlando di troll che vogliono intimidirla Ebbene non è così Quindi intendiamoci i troll sono sempre esistiti e sono sempre esistiti anche gli haters Sicuramente esistono troll ed haters filorussi pro Putin e sicuramente esistono anche trolls ed haters pro Ucraina Ma in questo caso è successa una cosa completamente diversa Ci sono tantissimi esperti che hanno preso posizione e criticano Amnesty International Io ne ho citati alcuni ma la lista è davvero lunga Insomma nella migliore delle ipotesi Amnesty International ha toppato di brutto Nella peggiore ha condotto un'operazione di marketing Alcune persone hanno avanzato la teoria che Amnesty International ormai si sia ridotta a essere un brand che vende un servizio Questo servizio è il gratificare i sostenitori facendo pensare loro che stiano svolgendo un'attività utile per difendere i diritti umani In altre parole, in cambio di denaro Amnesty International ti dà conferme Sei convinto che gli israeliani siano cattivi? Amnesty International rilascia un rapporto in cui afferma che gli israeliani sono cattivi Vuoi negargli una congrua donazione per avere confermato che il tuo punto di vista è quello giusto? Assolutamente no La donazione gliela fai con convinzione Secondo questa logica Amnesty International qualche mese fa ha preparato dei rapporti estremamente negativi sulla Russia catalizzando le simpatie e i fondi delle persone che sostengono l'Ucraina e sono pronato Dopodiché a distanza di qualche mese fanno l'operazione opposta per ringraziarsi i filo russi e ottenere le loro donazioni E così nell'arco di qualche mese riescono a massimizzare il risultato ottenendo il numero più elevato di iscrizioni e donazioni possibili Similmente riescono a ottenere particolare attenzione dai media perché il messaggio e il tweet che hanno mandato al mondo certamente colpisce l'attenzione di chiunque Ora questa teoria mi lascia un pochino perplesso perché chiaramente per seguire il rafforzamento del brand attraverso questi mezzi ti porterà certamente un buon risultato nel breve periodo ma nel medio-lungo periodo l'unico risultato a cui puoi andare incontro è il disastro Se questo fosse vero io ne resterei letteralmente disgustato e certamente non riterrei il lavoro di amnesty degno del mio sostegno Poi lasciate stare il fatto che io sostengo già soltanto realtà locali perché le conosco bene, perché vedo i risultati e perché ormai mi sono convinto che le organizzazioni non governative più grandi assomiglino più a delle multinazionali che a delle organizzazioni senza fini di lucro Ma effettivamente questo modus operandi di Amnesty International mi lascia persino più perplesso rispetto al solito E voi cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto E poi se normalmente trovate gradevoli i miei video seguite il canale con una certa costanza ricordatevi di iscrivervi, mettere il like e condividere i video Se non lo farete potreste trovarvi la segretaria di Amnesty International a cena Anzi no, mi sono spiegato male intendevo dire che potreste trovarvela per cena servita da Hannibal Lecter Grazie a tutti